Da quando non li tagli? Un anno. Da un anno. Come volevi fare? Allora, volevo fare un po' di movimento su davanti, tipo ciuffo a tendina. Ok, perfetto. E ovviamente pulire bene le doppie punte, dove sono rovinati. Ti sistemo io, dai. Vedo tanto pesante, perché qua è tanto lungo. Sì, voglio fare un po' di movimento. Sì, voglio fare un po' di movimento.